Con la sucaina che vomita Perché vomiti con la corona C'è la domanda mia Non è perché vomiti, perché abbiamo mangiato Perché vomiti con la corona Allora ragazzi sono le Che ore sono? Le 8 Come si dice per l'arabia? Tacharruj 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 Di al sucaina finalmente Tacharjutlina E quindi sarei in cio Sarei in chastro per il flus no? E sesok Quali sono le tue sensazioni? Non ne ho più Le ho finite Come il tubo? Farhana Sei contenta? Stai in ansia? Ti devo dire Sarei in chastro per il flus no? Sarà guida Ma il mio amico Comunque ho desisto di fare questo vlog Così le rimane proprio Le rimane questo video Dato che comunque lei non capirà nulla Già non sta capendo nulla E quindi non ci sono stati Non ci sono stati Non ci sono stati Non ci sono stati Comunque Cioè 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 la prima parte la scuola prima del pluglio e la cuore la scuola in effungence magari qui bulo non c'era la scuola Hai ragazzi? Ragazzi Prelauria Sucola febre Sembro drogata Slamo Slamo Sansazione Chai Non mi senti Non mi senti un uomo Non mi senti Non mi senti Non mi senti un uomo Non capisco il perché Comunque vedi che sono le unche Dai sistemati Dottoressa che sensazioni hai Così a fresco Che ho messo il dito nella presa Vado cuocere Guarda Che sensazioni hai? Ah Confusione Non Guarda che sensazioni hai Non lo so Farhana Troppo Si si Dottoressa 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 Sì 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 Grazie a tutti Sono distrutta da l'ultima tappa Siamo tornati da mia laurea Siamo addormentati Due ore Mi sono svegliata stonata Come dicono i baresi Ciao lavor Ciao lavor No L'ultimo step Cosa puoi dire alle persone che sono scritte? Allora vorrei dire Dovete laurearvi Perché uno? Perché è una figata pazzesca Amore intendevo un obiettivo Vabbè Vabbè Ok Saluto Quindi Sei contenta? Sì Quanto? Quanto un acqua e un giro Davvero? C'è la nostra laurea Con la sua italiana Che vomita Perché vomiti con la corona? C'è la domanda mia Non è perché vomiti Perché abbiamo mangiato? Perché vomiti con la corona? Lui è potente Lui è potente Io è scioccata ragazzi Io è scioccata Così termina il nostro video God Sì 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 Ciao